La Camera di Commercio di Salerno è pronta a diventare regia per il rilancio del turismo nell'intero territorio provinciale attraverso il braccio operativo del Forum sul Turismo, un gruppo di lavoro che ha come primo obiettivo la realizzazione degli stati generali del turismo provinciale già dal prossimo autunno. Un appuntamento di dibattiti, incontri e proposte dedicate al mondo del turismo provinciale a 360 gradi che metterà al centro l'impresa, l'imprenditore, i territori e le istituzioni. L'idea è di istituzionalizzare una data fissa annuale presumibilmente entro l'auturno, ha spiegato Raffaele Esposito alla guida del Forum, per intavolare una serie di ragionamenti costruttivi interni al mondo delle imprese e delle istituzioni per favorire politiche attive e concrete per il settore turistico salernitano che non lasciano l'imprenditore turistico nell'impasso di non poter comunicare per tempo le programmazioni territoriali e soprattutto i servizi che solo il mondo istituzionale può garantire. Il mondo del turismo salernitano guarda in queste ore naturalmente con grande interesse ad opportunità irripetibili da sfruttare in maniera adeguata, una di queste legate all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi che rappresenterà il volano per consolidare la leadership di destinazione turistica nel Mediterraneo della provincia di Salerno. Saremo attenti e vigili affinché si portino a compimento i lavori di allungamento della pista e delle infrastrutture dedicate con un'interlocuzione peraltro mai interrotta con le istituzioni preposte a ribadito esposito. Un confronto costruttivo in un momento cruciale per lo sviluppo dell'aeroporto che è stato inserito tra gli undici di interesse nazionale. Per il Forum del Turismo anche tutti i servizi dedicati alla provincia salernitana dovranno avere calendarizzazione certa, eventi, manifestazioni e iniziative così da creare una sorta di cartellone promozionale del nostro territorio per tutto l'anno.